E' di un 55enne livornese la mano armata che ha terrorizzato Livorno negli ultimi mesi, quella che, con una Glock, ha sparato contro un kebabbaro, un minimarket e un circolo arci a Shanghai. I falchi della squadra mobile lo hanno arrestato ieri dopo averlo trovato in possesso delle armi. La Glock, con matricola brasa e una beretta, nascosta nel vano motore delle auto, 95 proiettili, una dose di cocaina, tutte prove che lo inchiodano e che gli sono valse le manette e gli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto. Il soggetto è stato individuato perché è un soggetto che è stato attenzionato in passato per detenzione di armi clandestine. E quando l'uomo ha visto piombarsi in casa gli agenti della squadra falchi, ha alzato le mani, si è arreso immediatamente, ha reso piena confessione dicendo agli agenti appena arrivati bravi, mi avete preso, sono stato io a sparare. L'uomo è un camionista amante delle armi con una fedina penale di diverse pagine, traffico internazionale di droga, ricettazione, possesso abusivo e i suoi precedenti. Aveva già pianificato i prossimi colpi e solo le indagini della mobile lo hanno fermato. Le motivazioni che lui ha fornito sono delle motivazioni che necessitano di un ulteriore approfondimento investigativo. Non è emerso nessun movente di discriminazione razziale o movente politico. Il soggetto ha voluto soltanto attirare l'attenzione su di sé colpendo determinati luoghi della città. Quello lo escluderei, così come escluderei anche un atto intimidatorio per motivi estorsivi. Il soggetto agiva quando gli esercizi commerciali erano chiusi, agiva alla notte o alle prime luci dell'alba. Non aveva nessuna intenzione di uccidere, ma soltanto di attirare l'attenzione della città e dell'opinione pubblica.